Dio mio, Dio mio, non c'è limite al potere del danaro, al potere del soldo. Emil Strontzness, che promuove, mette il dito, caga e cazzo, tu sei un dopato, mi ricordo il video dove puntava il dito a raponi e lo asfaltava dicendo questo e questo e questo, probabilmente col potere del danaro, diciamo, deve essere stato convinto da qualcuno, ti do qualche nomina al mio canale, che sono canali, chiaramente, italiano ma lavoro all'estero, io penso sia questo il motivo. E il nostro Tom Hanks, degli stronzi, dice, sono contro l'uso di quella merda schifosa, ma se proprio dovete cominciare, è meglio che vi affidiate a qualcuno che vi dice come fare. Per cui, se un ragazzo non sa che esiste un canale stronzo e stupido, è assolutamente disinformativo, perché la persona che ne fa pubblicità lo prende per poter avere i nipotini in braccio e non si allena neanche, ora sa che esiste. Emil, sei proprio un coglione, ma ti prego, rispondimi.